La nuova rese Francesca Giordano è la nuova presidente dei Sacri Monti, sito unesco del Piemonte. Il presidente della giunta regionale Alberto Cirio ha firmato ieri il decreto di nomina. Si chiude così il lungo periodo di supplenza di Maurizio De Paoli che rimane nelle vesti di vicepresidente dopo le dimissioni nel marzo scorso di Elisabetta Sgarbi. Contestualmente alla nomina del presidente il decreto integra il consiglio dell'ente con la nomina di Giulia Grassi e rappresentante del comune di Ghiffa. Le prime dichiarazioni di Giordano. In realtà non avendo ancora ricevuto alcuna notifica posso comunque dichiarare di sentirmi onorata di questo prestigioso incarico. Conosco bene i Sacri Monti, luoghi splendidi, patrimonio delle monità dall'UNESCO. Complessi monumentali e spirituali di immenso valore, uno dei fiore all'occhiello non solo delle regioni del Piemonte e della Lombardia ma dell'intero paese che meritano di essere valorizzati e visitati da tutti per lo straordinario valore artistico, culturale e paesaggistico con il quale hanno plasmato il nostro territorio nell'arco di almeno quattro secoli. Va ricordato che l'ente in questione ha il compito di conservare, gestire e valorizzare lo straordinario patrimonio di arte, fede, storia e paesaggio dei sette Sacrimonti Piemontesi. Calvario di Domodossolo e Santissima Trinità di Ghiffa nel VCO, Orta in provincia di Novara, Varallo nel territorio vercellese, Europa a Biella, Crea nell'Asandrino e Belmonte nel Torinese.